Manca ancora tanto, però è una partita da quel punto di vista molto importante, visto che il nostro primo obiettivo è la salvezza, diciamo che è una diretta concorrente nel senso che è la terz'ultima, vogliamo sicuramente tenerla il più lontano possibile. Sicuramente vengono da due buone prestazioni, una vittoria e un pareggio fuori casa, è una squadra che dal mio punto di vista gli è rimasto un pochino quello che gli ha dato Zeman nel modo di giocare, nelle verticalizzazioni, però magari con una maggiore attenzione in questo momento a determinate fasi della gara. Sarà una partita difficilissima perché per loro è una gara importantissima, ma anche per noi, che vogliamo andare a riprendere un po' di quei punti lasciati per strada nell'ultimo periodo. È una questione che può diventare solo psicologica nel finale, in cui determinati palloni vanno gestiti in maniera diversa, oppure dobbiamo andare a fare il quarto gol con più insistenza. Per quello vorrei, e l'ho detto anche durante la gara, che dobbiamo cercare a volte di cercare con più determinazione il quarto gol, che ci riesce meglio che magari difenderlo. Ho visto benissimo anche nelle altre settimane, devo essere sincero, al di là che gli mancasse il gol, l'attaccante vive di questo, specialmente Domenico che l'anno scorso ne ha fatti tanti, tutti ci aspettiamo che si ripeta, però anche nelle settimane precedenti alla gara di Genova ho visto un Berardi veramente ispirato e mi auguro di riaverlo anche sabato, domani, allo stesso modo.